I ragazzi della Compagnia dell'Indie, un'avventura tra amici sinceri. Prova anche tu le loro emozioni con i sei profumi rari e preziosi dei nuovi doccia schiuma Compagnia dell'Indie. Atmosfera, amore, gioia di vivere. Indossa i loro profumi e i loro abiti solari. E quando vedrai una compagnia felice e spensierata, sono loro, i ragazzi della Compagnia dell'Indie. Compagnia dell'Indie, la vita è più bella.